Evento riuscito con successo di presenze per l'azienda agricola Principi di Porcia, che ha inaugurato nella sede della fattoria di Azzano Decimo, il nuovissimo wine shop sintesi di storia e modernità. La riqualificazione ai fini commerciali degli spazi al pian terreno di un'ala del complesso della cantina di Azzano Decimo ha infatti consentito la riorganizzazione moderna dei vani, rispettando il carattere storico del fabbricato. Un percorso longitudinale collega in successione visiva i nuovi spazi di vendita, i wine shop e lo spazio vino sfuso, la sala polifunzionale e la barricaia. Il legno di betulla chiaro e luminoso riveste le pareti interne. Il wine shop sarà aperto il lunedì dalle 8 alle 12, dalle 14 alle 18 e dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Autorità e esponenti politici delle categorie professionali ed economiche hanno voluto brindare con gli eccellenti vini dell'azienda agricola Principi di Porcia e Bruniera all'inaugurazione del nuovo wine shop. Innanzitutto che cos'è che ha portato a programmare e realizzare questa nuova iniziativa? Questa è l'ultima di una serie di tante iniziative che abbiamo fatto nel corso di questi tre anni scorsi che sono partite con la ristrutturazione dell'azienda per quanto riguarda la cantina con una sala di imbottigliamento molto più moderna e efficiente che tutela il prodotto. Poi abbiamo investito molto nelle energie rinnovabili con un impianto fotovoltaico, un impianto idroelettrico e una centrale a biomasse. Tutto questo per poter avere una certificazione di prodotto che si chiama ISO 50001 che ci consente di produrre senza far ricorso a energie esterne ma con l'energia autoprodotta dell'azienda. E infine abbiamo questo negozio che segue la filosofia dell'azienda e ha impatto zero anche lui è certificato dal punto di vista energetico ed è molto accogliente. Ecco il Conte Guecello di Porcia appunto ci sta illustrando questa nuova realizzazione e ovviamente sono tante le proposte non solo vino in bottiglia, vino sfuso la possibilità poi anche di degustare e di conoscere questa realtà agricola. L'intento è quello che diventi un punto di riferimento per chi vuole approvvigionarsi di un prodotto direttamente da una cantina quindi bypassando tutta la filiera arrivare alla fonte è molto importante sia per il controllo, la possibilità di scegliere del prodotto di cui si ha bisogno sia anche per questioni economiche. Una bellissima iniziativa, un slancio, un grande rinnovamento da parte di un'azienda storica del nostro territorio, un territorio che va sempre più pubblicizzato, che va sempre più valorizzato e io auspico che la nostra ristorazione, quel mondo che noi rappresentiamo possa sempre più utilizzare i prodotti di questa terra e i conti di Porcia sono un esempio di ottima produzione che deve trovarsi sempre sulle tavole dei nostri ristoranti e nei nostri bar. Questo è il futuro che la crisi aiuterà a imprezzasire ancora di più, noi veniamo fuori da una crisi economica che ci porterà ad amare di più la nostra terra, ad amare più quello che abbiamo e lasciare stare quello che non abbiamo e che non è per noi. Allora inaugurazione avvenuta, grande soddisfazione, tanta gente, tanta insomma anche soddisfazione proprio per questa inaugurazione e per l'apprezzamento di questo wine shop. Un'inaugurazione che ho voluto fare condividendo questa giornata con tutti i miei amici, collaboratori anche, vi ho invitati tutti quanti, le loro famiglie. L'azienda è fatta di persone ed è una squadra quella che vince.